e ciao a tutti benvenuti o bentornati sul canale sempre stefania on love and smell qui parliamo di profumi probabilmente alcuni dei miei video più visti sono quelli nei quali io parlo di profumi arabi perché questa cosa dei profumi arabi ha contagiato non solo me ma praticamente quasi tutti voi molto di recente ho parlato per l'appunto di shagafood vanilla toffee che è un profumo viralissimo ne ho parlato praticamente subito non appena è uscito io mi sono fiondata per comperarlo ma chi mi segue fin da principio e se non mi segui fin da principio malissimo perché è molto semplice basta cliccare sul pulsantino iscriviti e se ti va di farlo per favore fallo sa che io ho parlato di tutti gli shagafood quasi tutti perché non ne ho comperati due perché non li ho comperati perché li ho provati e sinceramente non erano di mio gradimento io fatico molto a dire che una cosa mi piace se non mi piace però ne ho tantissimi dopo avervi chiesto se volevate che ne parlassi vediamo se riescono a fare danni no tutti non riesco a tenerli in mano ragazzi però diciamo che ne ho 4 più 1 facciamo un piccolo excursus fra tutti i miei profumi parto con il capostipite quello che ha dato il via diciamo a questa mia passione che è il classico adesso lo tolgo perché fa riflesso con la ring light shagafood questo è proprio il primo che hanno creato questo bel lingotto dorato che è per me la fine del mondo anche se c'è chi me lo snobba alla grande vi dice niente un certo mister mozz però è veramente mi prende anche in giro però ragazzi cioè a me piace un botto questo profumo come note abbiamo oud vaniglia rosa abbiamo tantissimo zafferano e è una fragranza fantastica perché poi abbiamo anche pralina e vaniglia è un tipico profumo arabo dove la combo oud rosa è la cosa predominante non è un oud veritiero è un oud sintetico ma ragazzi è un profumo magico tutti quelli che amano i profumi accentranti tutti quelli che amano i profumi seducenti e dolcissimi dovrebbero provarlo ovvio che qui devono amare il profumo di legno è un profumo molto legnoso nel quale l'oud la fa da padrone ma è accompagnato da una rosa vellutata e dolcissima perché la nota di pralina è qualcosa di potente è misterioso è sexy è un beast mode è secondo me uno dei migliori profumi nel quale la rosa e l'oud e la pralina e questa vaniglia ce n'è tantissima di vaniglia diciamo si fanno sentire ragazzi questo per me è un profumo fantastico costa una quarantina d'euro io all'epoca l'avevo pagato sì mi parla una quarantina d'euro e per me fra tutti gli shagaf che ho penso che questo lo metterei al primo posto lui è sempre il primo posto per me altro shagaf e parlo della profumo che nessuno praticamente considera lui è shagaf sempre di swiss arabian ed è diciamo il fratello meno famoso di tutti quanti non so neanche più se c'è nel sito perché non viene considerata ragazzi questa fragranza cioè è meravigliosa anche lui è un gourmand perché è un gourmand aromatico allora questo potrebbe essere la versione estiva di tutti i profumi che vi sto presentando oggi perché perché apre con note freschissime sentite in apertura proprio una ventata di limone e di bergamotto poi arriva la parte della mela è una mela quella che sentite qui un po particolare perché comunque è una mela araba cioè nel senso il profumo è arabo però è croccantissima è una mela verde questa è proprio una mela verde super mega croccante una di quelle mele che quando andate a masticare dovete un attimino stare attenti perché altrimenti vi rompete i denti proprio di quelle che vi fanno fare cioè proprio croccantissima questa mela poi ha reso floreale questo profumo perché all'interno della fragranza ci sono anche note di peonia si adagia su un fondo che è più muschiato e legnoso lui a differenza dell'altro fratello super famoso e virale non è un beast mode è un profumo unisex forse lievemente maschile vira verso il maschile diciamo che è proprio adatto secondo me per il periodo estivo primavera estate bellissimo e poverino questo non se lo considera proprio nessuno lui è shagaf poi partiamo con partiamo continuiamo con un altro che non so poverino anche lui non è molto considerato e per me è fantastico sempre l'ingottone questa volta blu ed è shagafood azraq per chi non lo sapesse azraq è appunto una parola araba che sta a significare blu abbiamo in apertura miele ud nel cuore della fragranza troviamo cannella quantità industriali abbiamo vaniglia abbiamo ambra abbiamo poi nella base paciuli e cuoio cosa posso dirvi di questa fragranza uomini donne cioè se amate le fragranze calde ambrate di quelle che veramente vi dicono cioè nel senso questa è una fragranza che vi invita a spruzzarla su di voi nel senso che una volta che ve ne siete fatti uno spruzzo avrete la necessità impellente di farvi la doccia con il profumo ovvio che anche qui quando apre sentite fortissima la nota di ud io la sento tantissimo un ud estremamente caldo che risente tanto di quella che è l'ambra molto intenso però è un profumo che si trasforma perché proprio nel cuore quando arrivate al cuore la colata di miele che vi cade addosso è importante è un miele pastoso è un miele denso è un miele dolcissimo però non è solo questo è perfetta per questa stagione perché è un miele speziato nel quale la cannella si fa sentire è una cannella che pizzica un pochino cioè questa parte speziata che voi andrete a sentire è prominente cioè vi arriva qualche cosa che pizzica il naso avverto anche un po di paciuli poco per fortuna perché a me il paciuli non piace si adagia su un sentore cuoiato che sa di pelle non una pelle dura ma proprio suede pelle scamosciata dunque immaginatevi un dry down molto dolce mielato cuoiato e caldo perché si sente proprio questa parte dell'ambra con lievi sentori legnosi perché in asciugatura se in apertura era più ud in asciugatura è più cuoio mielato talcato dolcissimo sciropposo denso intenso io lo amo questo anche questo unisex questo su un uomo cioè pazzesco però io che sono donna lo porto con grandissimo piacere però devo dire che la grande maggioranza di complimenti quando indosso questa fragranza mi viene data dagli uomini penso che piaccia molto ecco direi anche che ha un sentore quasi busi è come se ci fosse all'interno qualche nota liquorosa non so se c'è perché sapete le note non vengono mai dichiarate tutte però ragazzi cioè che bomba è ma che bomba è questo se ne parla pochissimo fantastico shagafood azraq poi passiamo alla ragazzi c'è di questo forse ve ne ho parlato anche di recente shagafood tonka meraviglia e cioè che vi devo dire meraviglia che poi questi sono partiti come low cost però obiettivamente non sono più considerabili secondo me sui seribian low cost perché l'ultimo penso di averlo pagato più di 60 euro anche lui costa più di 60 euro adesso dovrei controllare perché non ricordo questo è il secondo mio preferito cioè se la gioca con shagafood non so se mi piacciono tutti e due lo stesso modo ma sono belli in modo diverso mandorla fiore d'arancio abbiamo poi anche qui cannella perché c'è anche qui la cannella rosa turca sì cosa stavo dicendo fava di tonka nella base abbiamo vaniglia e wood qui è proprio la tipica nuvoletta che vi avvolge una nuvoletta profumata mandorlata sin da principio e questa vi fa sentire veramente in paradiso sopra questa nuvola vi fa guardare dall'alto verso il basso le meraviglie del creato sentendone proprio i sapori gli odori ma sono odori e sapori che sanno di gourmand perché c'è questa nota di mandorla prominente che sento tantissimo di fava tonka e di una vaniglia dolcissima qui so che molte persone hanno paura del fatto che il profumo si chiami shagafood ma la parte legnosa per me è proprio quasi impercettibile cioè paragonato all'altro questo qui è acqua fresca io non lo sento neanche tanto ricorda veramente quelli che possono essere i dolcetti di mazzapane è una mandorla dolce una mandorla zuccherina una mandorla morbida non ha niente a che vedere con quella che potrebbe essere una mandorla verde che a me proprio non piace sa di dolcetto c'è anche una parte lievemente più citrica ma è solo in apertura è aggrumata perché c'è appunto questa nota del fior d'arancio ma la fragranza di per sé è proprio paradisiaca immaginatevi qualche cosa che fluttua nell'aria qualcosa di leggero e vi arriva il profumo della mandorla dolcissima dei dolcetti di marzapane il sentore floreale della rosa che comunque anche qui è molto delicato cioè secondo me questo è un profumo fantastico e anche qui parliamo di proiezione di scia di sia infinito ragazzi perché questi profumi per chi ama quelle cose sono quasi tutti beast mode eccetto quello classico insomma lo shagaf normale non shagaf food ma lo shagaf normale quello diciamo la versione estiva il lingottino estivo l'ultima fragranza nella quale appunto non mi dilungherò più di tanto perché vi ho proprio fatto un video in maniera cioè in periodo molto recente proprio in periodi non sospetti è l'ultima shagaf vanilla toffee anche qui come sapete questo è un profumo che divide e perché comunque è già cambiato i profumi alla vi veramente cambiano in una maniera allucinante non è un profumo da ragazzina non è il tipico gourmand è multisfaccettato è un gourmand atipico e che apre estremamente burroso e nel quale appunto la parte iniziale è data secondo me totalmente dal sentore toffee di caramella mu e poi ha un twist strano e ve l'avevo anche detto in precedenza che a me non piace più di tanto e è strano il sentore che sento ed è proprio l'avvento secondo me della spezia e quando arriva il cardamomo che da principio non si sposa granché bene con le note d'apertura però poi ragazzi arriva tutto quanto il resto e quando questa fragranza asciuga anche questa fragranza è bellissima nel il cuore proprio diventa una crema lattea nella quale la frutta secca i datteri e la noce perché c'è anche la noce forse cardamomo e noce quella cosa che ad un certo punto non mi piace più di tanto comunque in dry down rimane il fatto che rimane fantastico io ci sento anche tanto l'arabica sento tantissimo il caffè tanto che penso di avervelo detto anche nel video precedente ad un certo punto ho perfino pensato a sticky dates perché in sticky dates c'è qualcosa che ricorda il caffè un caffè caramellato perché anche qui c'è tutto questo profumo di caramello bruciacchiato misto a caffè misto al latte e al toffee che sta sempre sotto proprio è un profumo che è strutturato su più livelli cioè l'apertura non è la chiusura questo non vale per tutti i profumi però per tre quarti di profumi questa cosa succede nel senso che apre in un modo il profumo evolve e si setta in un altro no e invece ci sono profumi in cui apre in un modo e finisce esattamente in quello questo non è non è il caso di appunto chagaf vanilla toffee perché apre proprio con questo sentore di toffee e poi alla volta si trasforma cioè è come se le note arrivassero una alla volta fossero in fila indiana e si facessero sentire fatto sta che è un gourmand un pochino strano dunque capisco che possano piacere a tutti e per questo vi dico che non è un blind buy sicuro ok ragazzi li ho raccontati tutti perché io di questi cosetti di qui non ne ho più mi mancano appunto quello rosso e quello verde ma non mi erano piaciuti e spero di esservi stata utile come sempre io vi invito a lasciarmi un cuoricino per sostenermi grazie se siete arrivati fino a qui un commentino se vi va e ci vediamo prima che mai ciao